Salve ragazzi, buona giornata a tutti, sono di nuovo Andrea Bruno, mi trovo nel famosissimo free bus di cui vi ho parlato, ovvero l'autobus cittadino gratuito che gira qua a Lumpur. Ecco proprio una comodità, adesso qua è la fermata di sosta, guardate anche cosa ho scoperto, non solo il bus è gratuito ma anche ha il wifi libero e gratuito per tutti. Quando questo avrà anche in Italia non lo sapremo mai, ecco qui è un po' quanto, quanto vi volevo dire, come potete vedere l'autobus è pulitissimo, perfetto, ci sentiamo alla prossima.